Situata a 140 chilometri a sud di Aleppo e a 45 chilometri a nord di Homs, Hama è una delle più belle città siriane, con i suoi 150.000 abitanti e la quarta città del paese attraversata dal fiume Oronte, con vie alberate, giardini e le grandi ruote idrauliche in legno dette norie, delle quali oggi ne rimangono circa una ventina. Hama corrisponde alla città biblica di Hamath e i Seleucidi la battezzarono col nome di Epifania. Le norie sono una delle attrattive di Hamath, hanno una ventina di metri di diametro e la loro costruzione iniziò tra il XIII e il XIV secolo per rifornire la città di acqua e per l'irrigazione dei campi e dei numerosi giardini. Grazie. Queste grandi ruote idrauliche girano ancora oggi, sebbene la loro acqua non sia più usata e il loro movimento produce un suono caratteristico simile ad un lamento. Un primo gruppo di norie si trova nei pressi dei giardini pubblici, ma le più imponenti si trovano a circa un chilometro dal centro. Grazie.